Sono entusiasta di portare oggi qui nel canale un'applicazione per usare il mio drone per scopi utili, per magari fare un modello tridimensionale, per condividere un'ambientazione 3D con un'agenzia immobiliare, con un architetto, con chi voglio. Questa è un'applicazione facilissima da utilizzare, che sfrutta l'intelligenza artificiale, una cosa del tutto innovativa, fuori di ogni logica fino a qualche anno fa. Beh ragazzi, allacciate le cinture perché questo è un video veramente interessante e quindi andiamo a vedere l'UMA AI. Ciao a tutti, benvenuti. Oggi vi guiderò attraverso queste pratiche per utilizzare questo software di intelligenza artificiale, l'UMA AI. Questo serve per catturare immagini e per ricostruire in 3D ad alta qualità un'ambientazione, un luogo. Ci sono alcune best practice da tenere di conto quando facciamo questo lavoro. È essenziale muovere lentamente il drone per evitare l'effetto blur, evitare movimenti rapidi e rotazioni brusche. Inoltre, copertura della scena, beh, è ottimale, consigliabile catturare l'oggetto, la scena, il modello da più punti di vista, è chiaro. Invece di ruotare la posizione della camera da una posizione fissa, proviamo a muoverci anche nello spazio tridimensionale per andare a catturare tutti i vari angoli. Questa applicazione può avere difficoltà con superfici riflettenti come specchi oppure anche specchi d'acqua. La maggior parte degli altri materiali tuttavia funziona bene. Come vedete qua, alle mie spalle, ho un edificio, sono al Cassero, a Poggi Bonzi, un luogo storico. Andremo a fare una prova con il mio Air 3, che vedete qua. Ma lo avrei potuto fare anche con un Mini 4, un Mini 2, qualsiasi tipo di drone. Proveremo a bloccare l'esposizione e a tentare di coprire tutta questa area. Siamo sulla fortezza Medicea a Poggi Bonzi, è una zona molto ampia, e proveremo con la grande angolare a fare tanti scatti fotografici e poi vedremo come con il programma Luma AI riusciremo a ricavare un modello tridimensionale navigabile. Andiamo. Ok. Mettiamo un'altezza di Return to Home adeguata. Ok. Vado su Foto. Vado a fare TAP e vado a bloccare l'esposizione. Esposizione è bloccata. A questo punto posso o impostare uno scatto automatico, oppure procedere io, manualmente, a eseguire gli scatti. Sono in Normal, preferisco mettere gli scatti a tempo, quindi metto ad esempio 5 secondi. Ok. Proviamo. Faccio partire gli scatti e mi muovo lentamente con il drone. Naturalmente, più luce abbiamo e più l'immagine sarà bella, ferma e nitida. Oggi è una giornata un po' nuvolosa, non sarà il massimo per la ricostruzione tridimensionale, però comunque noi ci proviamo. Vediamo cosa ne esce fuori. Proviamo a tenerci a un'altezza di circa 40 metri e vediamo un po' di ruotare attorno al nostro soggetto. Io ho con me anche un osservatore che terrà d'occhio il drone, mentre io mi concentrerò un po' più sulle riprese. In questo caso Alessandra mi dà sempre una mano in questi progetti. provo ad allontanarmi un po', avere un drone di dimensioni notevoli come Air 3 mi consente di vederlo chiaramente anche a una certa distanza. Adesso siamo a 120 metri, comunque non siamo distanti. Abbasso un po' anche la gimbal, voglio andare a inquadrare proprio tutto quanto da lontano. Guardate in che posto meraviglioso che sono venuto a volare oggi. Ruoteremo attorno a questo che è il Cassero, questa fortezza medicea. È chiaro il nome Cassero perché è proprio un cassero di terra, riportato proprio in cima alla collina, al punto più alto. Sono un po' troppo distante, ma più che altro non perché il drone non lo vedo che è qua, è vicino a me, però vorrei che il modello abbia magari una risoluzione diciamo costante che venga bene. Quindi mi avvicino un po', mi sono allontanato un po' troppo e lo abbasso anche un po'. Come avete visto però sono foto che sto scattando in maniera molto pratica, molto random, cioè non occorre essere esperti per fare queste foto. Come dicevo, se la giornata è luminosa, il tempo di apertura del diaframma sarà minore e quindi la foto verrà meno mossa, il che ci consentirà di avere un modello poi migliore. Muovo lentamente, andando a inquadrare anche questa parte qua. Scendiamo un po' come altezza e alziamo anche un po' lo sguardo. Ci sono delle piante qua sotto, ma sono molto basse. Continuiamo la nostra rotazione attorno. Compare un avviso dicendomi che la SD ha una velocità bassa. In realtà no, perché è una delle SD migliori che ci siano in circolazione. Ok, abbiamo realizzato questi scatti fotografici, un bel po' di scatti fotografici, riprendendo un po' tutta la zona da varie angolazioni. Adesso prendiamo queste fotografie, inseriamole all'interno di Luma AI e vediamo un po' il risultato finale. Entriamo sul sito web che si chiama lumalabs.ai. Facciamo il login, io vado a logarmi con il mio user e password di Google e all'interno del portale troviamo un'interfaccia molto intuitiva. Andiamo su crea e qua possiamo andare a selezionare, a importare, scusate, i nostri file che abbiamo creato, le nostre fotografie. Prima però occorre fare un file zip, cioè vanno raggruppate e poi vanno inserite all'interno di lumalabs.ai. Occorre aspettare un po' di tempo che il software elabori tutte le fotografie che abbiamo inserito. Il tempo varia in base al numero di foto e alla quantità di dati che il programma deve processare. Nel mio caso, andando a inserire circa 100 fotografie, ho realizzato il rilievo, il modello tridimensionale, in circa 30 minuti. Ed eccoci qua, realizzato il lavoro, realizzato il modello, beh abbiamo questa visualizzazione molto scenografica di tutto quello che è stato rielaborato. Un modello abbastanza grande che comprende la Fortezza Medicea ma anche parte del contesto. Come ho detto, 100 scatti fatti con lo scatto automatico con DJI Air 3 hanno dato vita a questo lavoro. Tramite il cursore del mouse posso navigare e andare a vedere tutte le parti che mi interessano del modello tridimensionale. Vedete, lo posso ruotare tranquillamente, naturalmente non mi posso avvicinare troppo perché altrimenti il modello assume un aspetto un po' strano, cioè entro all'interno del modello, però è molto interessante questo servizio perché mi fa navigare innanzitutto in maniera del tutto libera, ma posso anche andare a impostare degli automatismi e posso anche andare a realizzare delle viste personalizzate, anche delle ambientazioni, anche dei percorsi, oppure posso fare una rotazione tipo Orbit, posso impostare un'altezza, posso impostare una distanza. Insomma, ci dà la possibilità di rappresentare al meglio quello che è il lavoro finito. Tutto quello che abbiamo visto lo possiamo fare anche con l'applicazione direttamente sul nostro smartphone. Andiamo nel nostro Play Store, App Store e scarichiamo Luma AI, come sto facendo io in questo momento. Vediamo che all'interno esiste una comunità di persone che poi ha condiviso vari modelli come una sedia o come vari elementi. Esiste anche una sezione dove possiamo andare a imparare come fare per realizzare un modello di un oggetto. Nel mio caso voglio andare a provare a fare una ricostruzione del mio maggiolino, parcheggiato in quest'area, dove posso comodamente girare attorno. Vedete, l'applicazione tramite una vista di realtà aumentata ci fa selezionare, ci fa creare un cubo. Il nostro oggetto dobbiamo inserirlo all'interno di questo cubo. Una volta inserito e una volta allargato e allungato per quelle che sono le dimensioni effettive, facciamo partire la rilevazione tridimensionale e sempre tramite la realtà aumentata, il programma ci guida passo passo sul tragitto da fare per andare a creare il duplicato digitale del nostro modello, o nel mio caso il mio maggiolino. Vedete, mi fa fare un giro tutto attorno. Una volta che ho completato il giro vado a far partire l'elaborazione. In questo caso non ho fatto fotografie, ma ho semplicemente eseguito il tutorial di questo servizio. Di questo servizio che è del tutto gratuito. Questa è una cosa molto importante. Un'applicazione fantastica, completamente gratuita. E questa è la ricostruzione tridimensionale del maggiolino nell'area a parcheggio. Notiamo bene che è difficile realizzare un modello su superfici riflettenti come specchi, come vetri, ma anche come una lamiera di un'auto che, seppur non essendo perfettamente pulita, è abbastanza riflettente, specialmente in una giornata di sole come questa. Ecco qua il lavoro finito. Io sono entusiasta. Beh, ragazzi, fatemi sapere adesso cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale, ci saranno sicuramente aggiornamenti su questa ed altre applicazioni per la realtà aumentata. Ci vediamo con nuovi video qui nel canale. Vi aspetto. Alla prossima. Ciao.